Siamo vicino a Pasqua. Cosa non c'era di meglio che fare una torta pasqualina? Buona, saporita! Ora vi faccio vedere come la faccio io. Oggi vi preparo la torta pasqualina a modo mio. Questi sono gli ingredienti. Io uso come base la pasta brisè. Poi ci sono le erbe di campo, la ricotta, le uova, il formaggio grattugiato, olio, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti per la torta. Erbe di campo spontanee. Qui siamo in un posto unico. Io colgo solo quelle che conosco. Poi le ripulisco a casa. Ora le prendo in via. Dopo aver pulito e lavato ben bene le verdure di campo è il momento di cuocerle. Acqua abbondante, un pizzico di sale e si buttano dentro le erbe. Vanno cotte circa 30 minuti. Dopodiché si fanno scolare bene bene. Si lasciano raffreddare e si tagliano fine fine. Le erbe di campo sono una moltitudine. Sono tantissime. Ad esempio i rosolacci, le cicerbite, la spragine, le radicchielle. E poi ho preso anche dall'orto qualche foglia di bietola e di borragine. Quindi tritare finemente le erbette in una padella con un po' di olio extravergine di oliva, farle insaporare e asciugare. una volta raffreddate le erbette, in una ciotola mischiarle con la ricetta. ricotta di pecora scolata. Un uovo intero, sale e pepe quanto basta. Formaggio grana grattugiato. A piacere si può aggiungere un pizzico di noce moscata e amalgamare bene il tutto. In una teglia alta di 22-24 cm di diametro, stendere il primo rotolo di pasta che arrivi fino ai bordi della teglia stessa e accomodarci dentro l'impasto. La torta pasqualina, anche nel nome, dice che si faceva nel periodo di Pasqua. è una torta ligure. Con un cucchiaio fare dei piccoli incavi dove ci si metterà le uova crude. e anticamente dicevano che facevano una sfoglia sottilissima e ne facevano 33 strati tra sopra e sotto e celebravano gli anni di Gesù Cristo. Mentre all'interno si mettevano 7 uova che erano il simbolo della rinascita alla vita e l'inizio della bella stagione. A questo punto coprire con la rimanente pasta la torta. Dopo averla distesa ben bene, con la punta del coltello fare dei piccoli tagli che serviranno a far uscire il vapore. Per ultimo io la spennello con un po' di olio. Adesso è il momento di infornare a 180 gradi per 70-80 minuti. Questa è la mia versione. Sembra bella, speriamo che sia anche buona. Ora proviamo ad aprirla, vai! Ok. Ok. E' un po' di olio. bella sembra bella speriamo sia anche buona assaggiamo buona veramente ne mangio ancora